Buonasera a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi comincia una nuova rubrica, come vi avevo già annunciato, domande e risposte, in cui io risponderò ad alcune domande che mi sono state poste nei video precedenti, tra i commenti. Prima di cominciare questo video, però, ci sono due cose molto importanti che vi devo dire. La prima è che in descrizione a questo video vi lascerò un link. Link di un canale YouTube appena creato di un mio amico, il mio migliore amico, un ragazzo con un interesse veramente a 360 gradi per tante cose, e ha deciso di aprire un canale YouTube. Lui viene da un piccolo paese in provincia di Cremona, uno dei paesi, tra l'altro, più colpiti, sfortunatamente, dal coronavirus. E durante questa quarantena ha cominciato a maturare l'idea di creare un canale YouTube. Questo canale è stato creato, ha visto la luce ieri, di fatto, e oggi è stato caricato anche il suo primo video. È un canale che parlerà più o meno di tutto. Manga non è uno specialista in Detective Conan come me, però Naruto, videogiochi anche, serie TV, cose di cui io non sono un grande appassionato, tecnologia, eccetera, eccetera. Tante, tante, tante cose. Se vi interessano questi argomenti, questo è un favore che io veramente vi chiedo da amico, veramente, di iscrivervi, iscrivervi a questo canale. Vi lascerò il link in descrizione, per favore, ve lo chiedo veramente, per favore, se vi interessano gli argomenti, se vi interessa il topic, iscrivetevi. Troverete poi oggi un video, tanto il suo video di presentazione, dove vi spiegherà più o meno di che cosa tratta. Quindi questo è un favore che vi chiedo. Quindi link in descrizione, per favore, se vi interessano gli argomenti, iscrivetevi al canale di Gianluca Beltrami. Seconda cosa, prima di cominciare, diciamo, questo video, questo sarebbe potuto essere, diciamo, una domanda, diciamo, introduttiva. La pongo più come domanda introduttiva. Molti di voi mi hanno chiesto dove guardo, dove posso trovare i manga, dove posso guardare gli spoiler, eccetera, eccetera, eccetera. Che sito uso, se posso postare il link, se posso mandare il link, eccetera, eccetera. Allora, questa era una domanda che mi è già stata posta in passato e io mi ero ripromesso di non rispondere più. Tuttavia, lo farò adesso per l'ultima volta, al momento che il numero dei miei iscritti ha aumentato. Abbiamo superato quota 500 e vi faccio veramente i miei più grandi ringraziamenti, perché per un canale che parla di un manga, comunque non così conosciuto, è un traguardo eccezionale. Quindi vi ringrazio, vi ringrazio, siete fantastici, continuate così, perché mi date un affetto straordinario. Appunto, ho deciso appunto quindi di rispondere ancora a questa domanda, ma non lo farò più, ok? Sarà l'ultima volta che rispondo a questa domanda. Dove vedere i manga, dove vedere gli spoiler, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono tantissime, tantissimi siti dove poter vedere gli spoiler. Io personalmente non mi focalizzerei su un sito in particolare. Appena si può sapere che esce un nuovo, appena si sa che esce un nuovo file, se lo vuoi andare a vedere, su YouTube digita Detective Conan File 1052 e guarda quello che trovi. Ci sono tanti siti, magari non in italiano, uno poteva essere Manga Eden, che utilizzavo magari in passato, però io personalmente mi affido, diciamo, al forum che prediligo, è quello di Detective Conan Ward, che è però un sito inglese, quindi magari non molti di voi hanno dimestichezza con l'inglese e quindi non possono guardare il... non hanno, insomma, non riescono a maneggiare bene le informazioni che sono contenute in quel sito. Però è comunque... a mio avviso, cioè, è il migliore, perché poi, tra l'altro, gli autori di quel sito hanno scritto la Detective Conan Wiki, quella in inglese, che è quella più dettagliata di tutte, quindi... io utilizzo questa. Però ci sono migliaia di siti anche in Italia, non ve ne dirò uno nello specifico. Tanti forum che parlo di Detective Conan, andate a vedere su internet, cliccate su qualche forum di Detective Conan, andate a vedere sull'e-spoiler, guardate quello... cosa propongono per il manga, eccetera, eccetera, scegliete quello che più vi si addice, ok? Per quanto riguarda poi la lettura testuale dei file, basta andare a cercare su internet, per esempio, su Google anche, cercare Detective Conan, file 1052, e magari non in italiano, perché ancora non sono usciti, però ci sono tanti, tanti sicuramente file che vengono postati, e quindi ci sono sicuramente tante, tante soluzioni, tante pagine, ma ripeto, magari non in italiano, perché ancora è presto, però ci sono, ok? Dovete andarla a cercare, io non vi posso postare un link, perché non è una cosa che mi piace darvi direttamente un link, dovete scegliere voi quella che più vi si addice, ripeto, navigate su internet, cercate, su forum, su pagine, cercate, ok? E troverete. Bene, fatto questo cappello introduttivo, adesso cominciamo veramente con il video, devo però premettere un'altra cosa, che ho scelto quelle che a mio avviso erano un po' le domande che diciamo si prestavano meglio a fare questo tipo di botta e risposta, quindi nessuno, ci tengo a precisare, e ci tengo anche ad incorarvi, nessuno si deve sentire personalmente offeso se la sua domanda non è stata, non è presente qua, tra quelle a cui risponderò. semplicemente non posso rispondere a tutte in un video solo, e quindi ho ritenuto di poter fare le... ho ritenuto di voler... di scegliere diciamo quelle più significative, ecco. Ora, basta con le premesse, perché addentravoci in questa rubrica, che mi auguro di tutto cuore che vi piacerà. Allora, la prima domanda me la pone Antonio Romano, e mi chiede se, secondo me, il boss, quindi Karasuma, possa essere a Gaza. E lui, diciamo, dice, in base alla somiglianza, se si eccetto al naso, la silhouette potrebbe essere simile, più o meno alla stessa età, perché Karasuma è morto 40 anni prima degli eventi della linea temporale principale di Detective Conan, rapporto speciale a Gaza-I, perché in un'intervista a Gosha ha detto che a Yi non si aspetterebbe mai che fosse quella persona. Certo, non si aspetterebbe mai che possa essere il boss, la persona che vive praticamente con lei. E poi a Gaza uno scienziato, in una puntata, disse di poter creare l'antito, effettivamente. Disse semplicemente che aveva bisogno, però, della PTX. Su richiesta di Conan, ecco. Cosa penso io? Io penso che non lo possa essere, perché... Gosha, innanzitutto, ha escluso che... che il boss sia una serie di persone, ok? E tra queste c'è anche il dottore a Gaza, c'è Ran, c'è Shinichi stesso, ci sono i Detective Boys, eccetera, eccetera, ce ne sono anche altri. Quindi, secondo me, non può essere, a parte perché, appunto, l'ha detto lui, mi sembrava onesto, perché, appunto, ho detto in tempi non sospetti. E poi, non credo, perché, appunto, non ci sarebbe motivo per far sì che Yi rimanga ancora a così stretto contatto. L'avrebbe potuta eliminare subito, cioè non c'è motivo affinché debba rimanere lì e continuare a indagare sull'organizzazione. E poi, non... non lo vedo, non lo vedo sinceramente come un persaglio papabile del boss. Lo vedo come il tramite perfetto tra il mondo degli adulti e il mondo dei bambini, perché è il miglior amico, comunque, di Conan tra il mondo degli adulti. Quindi no, sinceramente non lo penso. Ecco. Allacciandomi a questo tema, c'è anche qua la domanda di Ocol99 che mi chiede il boss è un personaggio già visto oppure no? Allora, io... questa è una domanda a cui è veramente difficile da rispondere. Io, già nel video, nel primo video su cui parlavo, appunto, dell'identità del boss, spiegavo che mi risultava difficile che il boss fosse un'altra... fosse, diciamo, Karasumaru, basta, stop. Karasumaru sicuramente è chi ha creato l'organizzazione, molto probabilmente, al 99%, però penso che sia difficile che il boss non sia adesso una persona che si è... che ha, appunto, questa... che ha, diciamo, l'età per partecipare alla linea temporale, che quindi non sia un personaggio visibile, ok? Io avevo diverse... quindi io penso anch'io che il boss possa aver preso la PTX e quindi si sia ringiovanito, qua, nel senso, raggiandomi alla domanda precedente, l'età tornerebbe perché più o meno ha la stessa età di Agasa. Agasa ha circa, mi pare, abbia 55 anni, 52, non mi ricordo, è preciso, e tornerebbe perché Karasumaru è morto a 99 anni, 40 anni prima, e quindi più o meno l'età è la solita. Però appunto, credo che... Allora, prima di Karasuma, io avevo due teorie possibili sul boss. La prima è Yoko Kino. È una teoria che circola da molto tempo. Yoko Kino era un personaggio che a me affascinava come ruolo del... come Papabri per il boss perché è un personaggio che è apparso più di una volta e diciamo che compare anche abbastanza spesso e poi nel file 3 nel terzo episodio il primo caso dove c'è Yoko Kino è l'unico suicidio fino ad allora per un bel po' di tempo poi ce ne saranno altri anche più recentemente ci sono altri casi di suicidio è strano che ci sia proprio un suicidio quella volta quella... proprio diciamo dove compare un sospettato Papabri del boss inoltre sempre in quei primi file Yoko Kino era vestito nel manga questo è stato tolto poi dopo nell'adattamento nell'anima ma era vestito di nero e quindi nessuno all'inizio sarebbe sognato perché viene solo descritto dopo che tutti i membri della tradizione vestono in nero di ritornare indietro a rileggere e di sfogliare e vedere che è nero e vedere che appunto il suo vestito era nero e poi c'è il fatto del rapporto speciale con Belmuth ok che potrebbe essere un rapporto da un punto di vista come si può dire del necessariamente un rapporto di amore o comunque una relazione ma può essere anche un rapporto lavorativo perché in fondo Belmuth Sharon Vineyard è stata una grandissima attrice e Yoko Kino è un'attrice quindi questa era una teoria che mi convinceva un'altra possibile era Ladro Kid Ladro Kid perché innanzitutto è un aspetto di travestimenti e sarebbe possibile che si potesse travestire tranquillamente da Karasumaru è l'apoteosi diciamo del mago dei travestimenti cioè se non è il mago dei travestimenti lui chi lo è e poi Gosho per descrivere il boss e l'organizzazione si è ispirato a Sherlock Holmes ovviamente e a Moriarty in particolare quindi il boss deve essere identificato con Moriarty e l'unico alla fine che veramente per ora ha incontrato Conan e non è ancora mai riuscito a catturare è proprio Ladro Kid e guardate caso in che episodio compare per la prima volta compare nel senso viene menzionato Karasuma per l'unica volta prima del file 1008 nell'egenda di Furto Kid che è un caso inerente a Ladro Kid può essere un caso sì certo però a volte questa cabala chiamiamola così conta Detective Conan penso anche al caso di Akai il caso dopo la morte di Akai quando torna Subaru Okiya nel caso appunto il rosso il bianco il verde Akai in quel caso lì ovvero Subaru Okiya è l'uomo rosso in quel caso lì se vi ricordate nel caso dell'incendio la palazzina davanti vicino a casa dell'amico il compagno di classe di cola ne Akai in giapponese significa rosso cioè sono cose insomma che possono contare quindi rispondendo alla domanda io sì credo che sia un personaggio già visto perché sarebbe una cosa più impattante ok e non so sincero non ti so dare una risposta su chi possa essere però questi due sono quelle le teorie che un po' mi convincerebbero di più ecco poi chiaro Yoko Kino Karasuma no non ci siamo però ripeto non pensando a Karasuma mi dico quelli che secondo me potevano essere più papabili se mi chiedete un personaggio nello specifico non ve lo so dire ecco cambiamo argomento nel senso parliamo di una domanda caliamoci sulla saga di Room Irons Irons22 mi fa una domanda straordinaria a mio avviso mi chiede Rumi può essere diventata insegnante perché vuole trovare quelli che sono stati rimpiccioliti in fondo alla lista delle persone a cui è stata somministrata a Ptx bellissima domanda bellissima domanda e io ti rispondo di sì è probabile perché appunto questo potrebbe spiegare il fatto diciamo implicherebbe comunque che il suo obiettivo probabilmente fosse veramente Conan e questo ci sta perché lei sembra veramente guidare fin da subito Conan e quindi sa che sappia appunto guidarlo nel senso nella risoluzione di diversi casi lo guida lei quindi sembra che sappia la sua vera identità quindi sì secondo me non ti dico oddio forse è probabile no però sì è assolutamente possibile è una cosa a cui non avevo pensato e ti faccio complimenti perché perché non è non è affatto male ecco che abbia voluto proprio cercare Conan e sia diventata maestra proprio per quello quindi sì la mia risposta è sì è possibile sempre relativo a Room un diciamo un un utente che che insomma che mi segue molto spesso riconosco il nome Alfredo Delia mi chiede più che mi chiede mi fa praticamente ve lo devo leggere perché insomma mi scrive un messaggio molto lungo mi chiede appunto volevo chiederti se ci possa essere un legame di parente tra Kuroda e Aneda Koji a mio avviso la situazione 17 anni fa è andata così Rumi era legata sentimentalmente da Aneda Koji come hai detto tu ed era la guardia del corpo di Amanda Hooks Aneda e Amanda si incontrano in quel hotel per parlare di qualcosa bla 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 a quel punto Amanda esce alla stanza per lasciarli soli magari la donna anziana insiste a Rumi eccetera eccetera a quel punto Rumi corre da Aneda impaurita e aspetta aspettate magari la donna anziana insiste e Rumi nonostante sia la sua guardia del corpo è quasi costretta a restare però un po' con il ragazzo dopo un po' Rumi torna da Amanda e la trova morta uccisa da Rumi per un qualche motivo a quel punto Rumi corre da Aneda impaurita e vede un uomo fuggire dalla stanza di Aneda in pratica Rumi entra nella stanza e trova il ragazzo morto prende l'alfiera e va via con tanto di pianto annesso e proprio in quel momento viene sorpresato a Kuroda che a mio avviso potrebbe essere il padre di Aneda Koji o la sua guardia del corpo chissà hanno una breve salutazione lei riesce a fuggire ma ovviamente Kuroda la vista e potrebbe pensare che sia il colpevole cosa ne pensi? allora io penso che sia un'ottima ricostruzione e penso anche qua che sia possibile e spiego perché perché Kuroda fin da subito ha un interesse verso il caso di Aneda Koji molto molto importante nel senso che non è come come gli altri personaggi sicuramente è quello che è tra tutti i personaggi insieme appunto a Rumi è quello che ha a prima vista il legame più profondo con il caso perché fin da subito si vede nel caso se vi ricordate nel caso del campeggio lui va insiste appunto si vede che mentre sta leggendo il caso il reportage appunto sul sito internet del caso di Aneda Koji e sembra essere molto coinvolto ok e quando poi dopo vede la maestra Rumi sembra che appunto ci sia qualcosa che l'abbia incontrata in circostanze che sono quantomeno legate al caso di Aneda Koji e quindi sì io che l'abbia potuta vedere mentre scappava e pensare che sia il colpevole lo penso lo penso anch'io e penso che Rumi stia fondamentalmente scappando perché probabilmente Rumi l'ha incastrato comunque molte l'organizzazione comunque molti pensano che lei possa essere il colpevole quando invece in realtà il colpevole è proprio Rumi ok che è Rumi che molto probabilmente secondo me ha ucciso Aneda Koji quindi sì potrebbe essere Kuroda magari fosse il padre o comunque sì che ci fosse una relazione tra Aneda Koji e Kuroda sì lo penso proprio per per quello che che ho detto che è molto 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 legato cioè sente Kuroda sente come molto vicino a sé il caso di Aneda Koji ok potrebbe essere anche appunto la luce perché lui è il padre di Akai e una storia dice che Kuroda è il padre di Akai Tsutomo Kai e in effetti Akai stava indagando sul caso di di Aneda Koji se lo dice Akai stesso appunto e è il caso che ha spinto Akai da entrare nell'FBI quindi sì credo comunque che ci possa essere un legame quindi in quel caso il legame non sarebbe diciamo relativo proprio ad Aneda Koji persona ma sarebbe relativo in generale al fatto che è un caso a cui Tsutomo in quel caso ammettendo che sia Kuroda era molto legato che è un caso che probabilmente gli è rimasto risolto e che lo ha fatto poi dopo allontanare dall'FBI per un qualche motivo che poi dopo magari tra un po' sapremo ecco cambiamo diciamo fronte e Daniele Savoia mi chiede quanto durerà ancora Detective Colin secondo te questa è una domanda a cui io francamente non ti so rispondere però ti posso dire che sono straconvinto che nelle intenzioni di Gosho il manga non doveva durare così doveva chiudere molto prima visto il successo l'ha ovviamente prolungato i problemi di salute di Gosho non aiutano il ritmo ripeto il ritmo del manga sta diventando molto molto incalzante cioè molto stressante per per gli appassionati però non ti so dare una data precisa però ti dico che dopo che avremo scoperto l'identità di room probabilmente le condizioni affinché possa arrivare il finale ci sono tutte perché dopo che si scopre l'identità del numero 2 dell'organizzazione in effetti che cosa vuoi cosa potresti fare di più tutto è possibile però non lo so sinceramente ecco vediamo ripeto i problemi di salute di Gosho giocheranno un ruolo molto importante a mio avviso ecco e poi comunque tirare troppo per le lunghe un manga non è mai a questo ritmo non è qualcosa che alla lunga giova secondo me ai produttori questo è quello che penso io sono ormai più di 20 anni e non è un ritmo secondo me che fa piacere proprio anche che appunto giova ai produttori e e quindi questa appunto per rispondere a a Daniele Savoia ecco e infine ultima domanda per oggi a irons22 irons insomma non so sinceramente spero comunque di averlo pronunciato bene no no scusate irons22 era quella di era quella di Rumi scusate scusate ho letto male Sir Merckx mi chiede spero anche qua appunto di averlo pronunciato bene dopo il fumetto 42 misterio di luna piena si è visto un peggioramento graduale del manga credi che Gosha alla fine riuscirà a far riquadrare tutto e a tessere le file dei personaggi nel senso a far incastrare tutto io penso di sì comunque al di là di quello che si possa dire di 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 Gosha eccetera che appunto il manga sia lento eccetera eccetera la coerenza secondo me c'è sempre stata e secondo me l'avremo anche nella saga di Rum già all'inizio della saga di Barbon molti potevamo pensare molti pensavano già che Okia fosse Akai che Barbon fosse Amuro eccetera eccetera molti avevano già intuito cosa cosa stava dietro alle idee di Gosho ok e e credo che con la saga di Rum sarà più o meno la stessa cosa nel senso che utilizzerà sempre lo stesso schema Gosho e riuscirà alla fine magari non sarà una sorpresa alla fine scoprire come sono andate le cose possiamo dire che potrebbe alla fine potrebbe risultare qualcosa di prevedibile però alla fine credo che tutto tornerà sì credo che alla fine i personaggi verranno collegati nella maniera in cui devono essere collegati collegate in cui si arriva a mantenere diciamo una certa coerenza anche proprio dal punto di vista della trama a livello organico tra tutti i personaggi per oggi abbiamo finito a quando il prossimo appuntamento non ci è una data finita continuate a commentare è l'unico modo io quando avrò abbastanza domande che mi verranno poste io farò un altro video di questo tipo e quindi l'unico modo per pormi delle domande è quello di commentare nei video qua sotto poi quando appunto ci saranno abbastanza domande riterò di poter fare un altro video arriverà da sé e spero che vi sia piaciuto appunto e è una rubrica insomma che ci tenevo molto a fare e speriamo appunto di vederci presto alla prossima domande possono essere di qualsiasi tipo non per forza inerenti alla trama anche magari domande qual è il tuo caso preferito eccetera eccetera inerenti a qualunque questione dell'universo di Detective Conan buona serata ancora iscrivetevi al canale di Gianluca Beltrani mi raccomando e ovviamente iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e mettete mi piace se il video vi è piaciuto ciao